Buon pomeriggio dalla redazione del Tg della Mobilità. Metro C entro la fine del mese saranno di nuovo in servizio tutti i convogli. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ha autorizzato la reimmissione in servizio degli otto treni che erano fermi per ritardata revisione quinquennale. Sulla linea C dunque saranno a disposizione 13 convogli in tempo per l'avvio del nuovo anno scolastico. Le altre notizie. Ferroviario Malido stop dei lavori serali sino al 4 settembre. La circolazione dei treni resta regolare sull'intera tratta da inizio a fine servizio per tutta la settimana. I lavori serali e la limitazione della linea riprenderanno il 5 settembre. Nel frattempo, ancora per oggi è domani e da lunedì al 2 settembre, durante il giorno sono previsti i lavori all'altezza della stazione Stella Polare che non incidono tuttavia sulla circolazione dei treni. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti anche sul sito romamobilità.it